Grazie mille dottor Rattaos, scusi ancora per l'interruzione, parlando con rumore. La nostra terza relatrice è la professoressa Manuela Consonni, Manuela Consonni è professore associato nel Dipartimento di Storia Ebraica, Studi Romanzi e nella School of History all'Università Ebraica di Gerusalemme, direttrice del programma di studi italiani e del Vidal Sassoon Centro Internazionale per gli Studi sull'antisemitismo e l'autrice di Resistance of Holocaust, The Memory of the Deportation and Extermination in Italy 1945-1985, pubblicato nel 2010, e di L'Eclisse dell'Antifascismo, Resistenza a Questione Ebraica e Cultura Politica in Italia dal 43 all'89, pubblicato lo scorso anno e che le valso nel 2016, quest'anno, il Polosky Prize for Originality and Creativity in the Humanities. Fra i suoi numerosi riconoscimenti possiamo citare l'Urbach Prize of the Memorial Foundation for Jewish Culture, the Dinner Prize for Academic Excellence in Research of Jewish History and the Viterbi Fellowship. Il titolo dell'intervento della professoressa Consonni oggi è Natalia Ghisburg e il Gruppo di Torino. Senza che io e Ariel ci si sia messi d'accordo, rientro nel Piemonte e a Torino. Noi siamo cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere, l'uno con l'altro, indifferenti o distratti. Ma basta fra noi una parola, una di quelle frasi antiche, sentite ripetute infinite volte. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, tra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro babilonesi. La testimonianza è un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Così, Natalia Ginzburg. Come i Levi, gli altri protagonisti di questa storia, collocata nel secolo passato, sono tutti piemontesi e per la maggior parte torinesi. Ciò che li accomuna è la cifra della condizione sociale ed esistenziale ebraica della fine dell'Ottocento, che non fu altro se non la conciliazione del senso di appartenenza all'Italia e all'ebraismo. Molti furono socialisti, azionisti e antifascisti. Pochi si rivolsero al sionismo, alcuni furono fascisti, tutti furono vittime della persecuzione razziale e molti tra loro condivisero il tragico destino della deportazione e della morte nei campi di sterminio nazisti. Tra essi vi sono i padri fondatori dell'Italia repubblicana, una vera aristocrazia ebraica, tutta italiana, una aristocrazia intellettuale, culturale, politica ed economica, che ha ammarcatamente segnato la storia dell'Italia unita e di quella repubblicana. Le origini piemontese furono sempre ad essicare, tanto che, anche durante gli anni della persecuzione razziale e della guerra, il Piemonte rimase per loro l'unica vera patria, quella in cui si riconoscevano, insieme alle montagne che circondavano Torino, visibili e non sostituibili. Queste erano le loro radici, non poderose, ma profonde, estese e fantasticamente intrecciate, come ricorda Primo Levi. Radici provenzali dei primi gruppi di ebrei che vi arrivarono, che vennero paragonati ad Argon, l'inoperoso, un gas raro, nobile, in colore e in odore. Levi ne spiegava l'inerzia come una qualità della loro anima, portata alla speculazione disinteressata, al discorso orguto, alla discussione elegante, sofisticata e gratuita. Gli abitanti di Argon furono presenti nei momenti storici importanti della storia ebraica italiana. L'Assemblea del Sinedrio nel luglio del 1806 a Parigi, convocata per dare assetto giuridico alle comunità ebraiche, dove circa la metà dei rappresentanti giunti dalla penisola italiana veniva dal Piemonte. Nessuna rappresentanza dalla Toscana o dagli stati della Chiesa. La stessa partecipazione capillare che segnerà nel risorgimento il simbolico inizio del cammino verso la libertà. Da ogni ghetto si mosse un ribelle. Giuseppe Vitale da Vercelli, Giuseppe Viterbo da Nizza Marittima, David Levi da Chieri, Moise Colombo da Fossano, Abramo Viterbo da Nizza Monferrato, Abramo Davide e Antonio Vitale da Alessandria. E a Vercelli, il collegio FOA non fu solo la punta più avanzata degli studi di ebraistica della penisola, secondo per prestigio al collegio rabbinico di Padova, di Shmuel David Luzzato, ma fu soprattutto il luogo d'incontro di cospiratori mazziniani, il laboratorio politico che accelerò in molti giovani, poco più che ventenni, intorno al 1848, il processo di maturazione politica necessario a fare di se stessi dei cittadini liberi, simile a quello che accadde nel 1943 con la resistenza degli ebrei torinesi e piemontesi nelle valli alpine. Nato in questo ebraismo, il giovane Arnaldo Momigliano scriveva nel 1933, nella recensione al libro di Cecil Roth, che la storia degli ebrei italiani dal XVII al XIX secolo fu essenzialmente la storia della formazione della loro coscienza nazionale italiana, soprattutto per gli ebrei piemontesi. Egli definì tale processo parallelo e non posteriore a quello verificatesi fra gli italiani non ebrei. In altri termini, il processo di costruzione dello Stato unitario nazionale italiano e indipendente e il processo di emancipazione ebraica furono quindi contemporanei e gli ebrei italiani divennero italiani parallelamente al resto della popolazione, ma in termini medi con maggiore rapidità. Da qui il ruolo importante che svolsero, ben superiore alla loro dimensione numerica, nel processo di costituzione politica e sociale della nazione. Era la dimensione familiare, l'ambito privilegiato di trasmissione di questo nuovo spirito, di questa nuova forma di identità ebraica, in grado di sopravvivere ai mutamenti dell'ambiente circostante. Un'identità ebraica spesso poco articolata, coltivata a livello affettivo ed emotivo, di cui hanno reso testimonianza ancora Arnaldo Momigliano e Vittorio Foa, il primo ricordando di essere cresciuto in una religione chiusa nella famiglia, nell'ambito di un'intensa austera pietas domestica. Il secondo, cugino per via materna di Primo e Anna Maria Levi, rievocando la figura del nonno e il rabbino di Torino, Giuseppe Foa, descriveva la sua religiosità ebraica come una forma caratterizzata da una ritualità che non supponeva una fede individuale, ma solo un profondo sentimento di unità della famiglia. Mentre il sionismo toccò marginalmente gli ebrei piemontesi, in misura minore certamente che a Ferrara, Firenze, Trieste e Roma, fu invece la scoperta della questione sociale, il socialismo, la loro vera rivoluzione alla fine dell'Ottocento. Ricordava Arturo Carlo Iemolo, importante giuristo italiano, figlio di una Momigliani di Mondovì, e i giovani socialisti turattiani, uomini di giornali e di libri, più che di organizzazione operaia erano. Tra essi Gustavo Sacerdote, l'allievo prediletto di Claudio Treves, i cui genitori, trasferitesi da Moncalvo a Torino, sognavano per il figlio un futuro di rabbino. Sacerdote incontrò invece la tempesta socialista, che lo portò alla fine del secolo a Berlino, come corrispondente dell'organo del partito. Insieme ad altri ebrei socialisti, partecipò alla controversia che divise i redattori della critica sociale in due fazioni. Gli ebrei si schierarono lungo il versante dei pessimisti accesi. Il socialismo pessimista degli ebrei piemontesi darà origine al vocabolo socialismo migliorista, ossia il pessimismo dei pessimisti ottimisti, destinato ad avere grande fortuna nella cultura socialista e comunista italiana. Pensare da pessimisti per agire da ottimisti, per non cedere alle sirene dei prigionieri dell'ottimismo, dei rivoluzionari a buon mercato. Il pessimismo ottimista che consisteva nel convertire la necessità in virtù, la stessa morte in beneficio. L'ebreo era come l'immagine del vecchio uomo di Leopardi, lacero e sanguinoso che procede in mezzo a sterpi e fratte per conservarsi a più lieti destini. L'adesione al socialismo riformista fu significativa ed estesa. A uno dei capi del movimento, Filippo Turati, viene dedicata una pagina ancora in lessico familiare, dalla Ginzburg, dove la figura del fondatore del Partito Socialista è rievocata insieme alla sua compagna, la rivoluzionaria russa Anna Kulishov, Anna Moshevna Rosenstein. Giuseppe e Lidia Levi, i genitori di Natalia, erano amici di Turati e quando il leader socialista, dopo la morte della Kulishov, deluso dal consolidamento del regime fascista, scelse nel 1926 la via dell'esilio, venne nascosto a casa Levi per circa dieci giorni sotto mentite spoglie. Il signor Paolo Ferrari era in sala da pranzo che beveva il tè. Nel vederlo io riconobbi Turati. Ferrari era vecchio, grande come un orso e con la barba grigia tagliata in tondo. Poi fece una cosa strana. Prese il libro in memoria della Kulishov e vi scrisse una lunga dedica a mia madre. Firmò così, Anna e Filippo. Dell'ebraismo torinese, della sua élite, la mole antonelliana, nata nel progetto del 1848 come sinagoga costruita dall'architetto Alessandro Antonelli e acquistata dal comune di Torino nel 1878, divenuta poi il simbolo della città, rappresentò certamente l'avanguardia e il simbolo più visibile del potenziale dissimulativo di questo mondo ebraico, posto sempre tra il dentro e il fuori. E Torino, insieme ad essa, fu nella prima metà del Novecento il tipo che esempio di città e comunità che attirò nella sua orbita molta della meglio gioventù ebraica piemontese schierata contro il fascismo. Torino era una città che aveva qualcosa di assai particolare, che forse, più che nelle pagine degli storici, si coglie meglio nella memorialistica e nella letteratura. Così, nell'Orologio del 1950, la ricordava un altro torinese illustre, il pittore e scrittore Carlo Levi, e cito «Torino, dove le idee e l'amicizia erano dei beni esaltati e i corsi alberati così lunghi e vasti e deserti che le parole parevi che vi possano correre e allargarsi senza inciampi. A tutte le ore, quei corsi, quelle vie solitarie, si aprivano ai giovani che avevano da dirsi delle cose importanti, alte e acute, come le montagne là in fondo. Una caratteristica che distingue la capitale del regno sabaudo dal resto dell'Italia, che ne la fa la capitale morale, almeno in quella prima metà del secolo. Caratterizzata da tanti momenti particolari, che non sono soltanto gli antifascisti o l'ebraismo piemontese, ma la Fiat, l'esperienza consigliare, Gramsci, Giolitti, il neutralismo, Gobetti, la casa editrice in Audi, tanti pezzi significativi di una storia d'Italia che si raccaratterizzano e si distinguono sia prima che dopo il fascismo, fino ad arrivare fino all'oggi. In un capitolo della sua autobiografia Il cavallo e la torre, intitolato proprio Torino, Vittorio Foa così spiegava la specificità torinese, individuata nella modalità della cospirazione antifascista portata avanti dal gruppo di Giustizia e Libertà, così nel testo. Solo quando la politica divenne operativa e coinvolgente con la cospirazione, mi si ripropose, anche se in un modo non esplicito, il tema del mio rapporto con Torino. Mi parve allora che il nostro modo di partecipare al movimento di Giustizia e Libertà fosse diverso da quello che si manifestava nella sua direzione in esilio. Si distingueva allora nel lavoro cospirativo l'interno dall'esterno, il lavoro in Italia da quello in esilio. Per me l'interno era Torino, col suo stile e con le sue leggi non scritte, scarso interesse alle sciabolate ideologiche, la politica, anche la grande politica, come proiezione del quotidiano e poi anche, forse, con un'accentuazione moralistica, l'imperativo, bisogna lavorare per l'Italia. L'evento politico formativo per molti giovani torinesi fu certamente la morte per mano fascista di Giacomo Matteotti nel 1924. E ancora fu a renderne testimonianza. In seguito all'assassinio mi resi conto che il fascismo era diametralmente contrario alla logica della vita sociale. Capii che l'opposizione al fascismo doveva essere incondizionata, assoluta. Ma fino a quando mi unì a Giustizia e Libertà si trattò di una sensazione generica, priva di una reale espressione politica, un fuoco ardente a cui non riuscivo a dare sfogo. Da questa situazione uscì solo scegliendo la via della resistenza attiva indicatami da Leone Ginzburg. Fu l'inizio della mia attività nel movimento. Poi entrò nella coaspirazione antifascista nel 1933. Come prima cosa scrisse un lungo articolo pubblicato nei suoi quaderni di Giustizia e Libertà che firmò con lo pseudonimo di Emiliano, scelto per il forte legame che aveva con l'amata nonna Emilia. Faux conosceva Ginzburg, un Apoli di origine russa nato ad Odessa, dai tempi del liceo Massimo d'Azelio, un uomo, nella sua memoria, eccezionale, fuori di ogni misura, uno dei suoi due maestri, l'altro era di Vittorio. Come soleva dire, continuo nella citazione, con quel suo fare penetrante e curioso, io non ero in condizione di accostarmi al suo livello di sapere, quello che mi colpiva e mi affascinava in lui era la sua naturale autorevolezza. Il fatto che a nessuno, neanche a Benedetto Croce o a Luigi Einaudi, era possibile dire di no se gli chiedeva qualcosa. Ginzburg, che ebbe a 22 anni un incarico di letteratura slava all'Università di Torino, da cui si dimise quasi subito perché si rifiutò di giurare fedeltà al fascismo, fu il fondatore, nei primi anni Trenta, insieme a Carlo Levi, di Cesare Pavese, Massimo Mila, Elio Vittorini, Luigi Salvatorelli, Norberto Bobbio, della casa editrice Einaudi. Egli divenne uno dei capi di giustizia e libertà in Italia. Cospirò attivamente solo dopo aver acquisito la cittadinanza italiana, ebbe cioè bisogno di conquistare un'identità nazionale e dentro questa muoversi politicamente per poter giustificare il proprio antifascismo. Ricordo che Ginzburg, dopo la caduta del fascismo, divenne una figura di spicco dalla resistenza romana, fu catturato e incarcerato a Regina Celi, dove morì per le tutture subite dai nazisti nel febbraio del 1944. Nel marzo del 1934, Sion Segre e Mario Levi, fratello di Natalia Ginzburg, furono fermati in macchina a Ponte Stresa, con la scoperta del materiale antifascista che trasportavano. Mario Levi riuscì in modo rocambolesco a sfuggire alla cattura e riparare in Francia. Ne seguì l'arresto di Carlo Levi, Leone Ginzburg, del padre di Mario Levi, Giuseppe, e dell'altro fratello Gino. La stampa fascista parlò di ebrei antifascisti. Nei viali torinesi continuavano a passeggiare, invece, Vittorio e il suo fraterno amico Alberto Levi, il terzo fratello di Natalia. Erano considerate passeggiate oziose quelle, come racconta ancora la Ginzburg, che facevano arrabbiare il professor Levi, che pensava che Alberto e Vittorio fossero due fannulloni. E cito. Mio padre, quando incontrava Vittorio e Alberto sul corso, li salutava con un freddo cenno del capo. Non lo sforava neppure da lontano l'idea che potessero essere quei due, uno un cospiratore e l'altro il suo confidente. E poi mio padre non pensava che ancora esistessero in Italia dei cospiratori. Pensava di essere uno dei pochi antifascisti rimasti. Finché non arrivò l'alba del 15 maggio del 1935, quando anche i due fannulloni vennero arrestati. Insieme a Levi e a Foa furono imprigionati il padre di quest'ultimo, il fratello Beppe, che migra successivamente per la legislazione razzista in America nel 1940, con la sorella Anna e il marito Davide Iona. E altre 40 persone, tra cui Leo Levi, il famoso musicologo che emigrò appena rilasciato nel 1935 in Palestina. Gli arresti avvennero per la confessione e su dell'azione di una spia dell'Ovra, Pitigrilli, pseudonimo di Dino Segre, pugino di Sion Segre, spia per denaro più che per motivi ideologici. Scusate, non si stacca. Più tardi, in quei già ricordati viali torinesi, cominciarono a passeggiare altri giovani ebrei, anch'essi tutti antifascisti, che presero a riunirsi nella biblioteca della scuola ebraica di Torino, scegliendola come il loro luogo di incontro, di confronto e di amicizia. Emanuele D'Eno Artom, che durante gli anni della persecuzione e della guerra, insieme a Franco Momigliano, Vanda Maestro, Luciana Nissim, Silvio Ortona, Ada della Torre, Giorgio Diena, Eugenio Gentili Tedeschi, Giorgio Segre, Anna Maria e Primo Levi, Lino Ione e Alberto Salmoni, insieme a Bianca Guidetti Serra, che ebrea non era, si riunirono con grande frequenza, trasformando la biblioteca della scuola ebraica nel terreno di confronto per il loro apprendistato politico e per il recupero del loro ebraismo in senso universale. C'erano state le leggi razziste che li avevano separati dalla società. Così Luciana Nissim rievoca quel periodo. Nel mio anno di corso in quelli contigui fece amicizie sempre più strette con quei compagni che ormai sempre più numerosi cominciavano a dichiararsi antifascisti. Erano ormai anni di guerra e molti speravano nella sconfitta dell'asse Roma-Berlino e nella vittoria degli alleati. E a frequentare invece nel tempo libero i ragazzi ebrei che intanto, come me, avevano ritrovato un'identità comune avevano cominciato a riunirsi, a studiare insieme, a discutere di politica sia progettando una resistenza al fascismo sia eventualmente l'immigrazione in Palestina come alcuni poi fecero. Dopo il 1938 molte cose erano cambiate. Un cambiamento drammatico indotto dalla legislazione razzista. Alla cacciata di studenti e insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università era seguita febbrilmente l'organizzazione delle scuole ebraiche. Mentre a Roma il grande matematico Guido Castelnuovo organizzò un'università clandestina nella scuola ebraica di Via Celimontana, a Torino, dove già dalla metà dell'Ottocento esisteva una scuola materna ed elementare ebraica e furono creati in due mesi un ginnasio, un liceo classico e una scuola professionale. Qui ad ogni insegnare Emanuele Arto, uno dei ragazzi del gruppo della biblioteca ebraica, che si buttò nel 1943 nella lotta partigiana e che morì anche egli nel 1944 assassinato dai nazisti. Ma molti altri illustri docenti si trasformarono in maestri d'eccezione delle scuole ebraiche, fra essi Arnaldo Momigliano, che insegnò a Torino prima di passare a Cambridge. Il nesso fra il prima e il dopo, tra la Torino degli arresti del 34 e del 35, e quella della biblioteca della scuola ebraica e quella della Resistenza, Primo Levi lo ha tracciato in un passo del capitolo Potassio del sistema periodico. Nel testo, la nostra resistenza di allora era passiva e si limitava al rifiuto, all'isolamento, al non lasciarsi contaminare. Il seme della lotta attiva non era sopravvissuto fino a noi. Era stato soffocato pochi anni prima, con l'ultimo colpo di falce che aveva relegato in prigione al confino, all'esilio, al silenzo gli ultimi protagonisti e testimoni torinesi. E in Audi, Ginzburg, Monti, Fo, Azzini, Carlo Levi. Bisognava ricominciare dal niente, inventare un nostro antifascismo, crearlo dal germe, dalle radici, dalle nostre radici. Cercavamo intorno a noi e imboccavamo strade che portavano poco lontano. La Bibbia, croce, la geometria, la fisica, ci apparivano fonti di certezza. Il cielo sopra di noi era silenzioso e vuoto, lasciava sterminare i ghetti polacchi e lentamente e confusamente si faceva a strada in noi l'idea che eravamo soli, che non avevamo alleati su cui contare né in terra né in cielo e la forza di resistere avremmo dovuto trovarla in noi stessi. E così, pochi mesi dopo quei ragazzi intenti ad innamorarsi un po' con gli uni degli altri, a discutere i drammi di One Hill che avrebbero partecipato attivamente alla resistenza, alcuni con un ruolo importante come Silvio Ortona, Franco Molligliano, Bianca Guidetti Serra e appunto Emanuele Artom e altri come Primo Levi e Luciana Nissim in maniera un po' sprovveduta, se vogliamo dare credito a Levi che scrisse che erano stati i partigiani più disarmati e meno abili del Piemonte. Meno severa, Luciana Nissim, a cui sembrava che la sua scelta partigiana desse un senso alla persecuzione, l'aiutasse a soffrirla da protagonista attiva senza subirla passivamente. Era una combattente e subiva l'infelicità, i dolori e i rischi di chi aveva deciso in quel momento di combattere contro il nazismo. Le conclusioni. Non sono stati dunque soltanto malinconici sognatori questi cittadini di Argonne. A loro si devono opere e scoperte importanti, anche se non semplici da armonizzare. I fiammiferi, la penna Aurora, la macchina da scrivere, i tubi flessibili per il travaso dei liquidi inventati da Rodolfo De Benedetti, la traduzione del ciclo biblico di Tozman's Mann ad opera di Gustavo Sacerdote, il risorgimento, la lotta antifascista e l'Italia repubblicana. Qualcosa hanno fatto davvero e non soltanto in sogno. Sembrano gas inerti, ma non lo sono. Se la memoria di Bruneri sia smarrita davvero nel vecchio cimitero di Torino o non sia stata anche questa una dissimulazione oggetto di controversia. Non fu certo in sogno a turbare il sonno di Raffaele Ottolenghi nella sua camera d'affitto in piazza Carlo Alberto a Torino, quello che ascoltava attraverso la parete della stanza era davvero il primo indizio della follia di Nietzsche. I sogni di cui parla Arnaldo Momigliano nel suo Continental Timetable sono sogni dominati da un super ego molto bene assestato. Uno dei critici letterari italiani più importanti, che il supermentese, Giacomo De Benedetti, anche se lettore attento di Freud, quando ebbe a parlare del suo incontro con il padre della psicanalisi, si è espresso in un puro stile che disvelava le sue origini. In Piemonte, il signore dei sogni rimase sempre Cesare Lombroso, il padre dell'antropologia criminale e della moderna criminologia, resistente, come gli altri suoi correligionari, alle tentazioni dell'inconscio. Le barriere contro l'inconscio freudiano erette a Torino dal determinismo positivista lombrosiano rimasero sempre insormontabili e condivise dai sogni terribili sul ritorno a casa di Primo Levi. Al centro delle assimetrie, degli errori, delle distorsioni, gli abitanti di Argon continuarono a portare testardamente il bisturi della ragione illuminista, del determinismo positivista che resiste davanti ad ogni irrazionalità. Difficile che lo storico possa aggiungere altro, come è difficile sostituire a pagine come quella della Ginzburg, di Foa, dei due Levi, della Nissim, una paravrasi da tardo esegeta. Grazie.